Siamo o non siamo? Oh, mi sono emozionato. Siamo amici, siamo amici, ma le amicizie devono essere costruite mattone dopo mattone e questi mattoni bisogna anche tirarsene un po' addosso. Ciao, viva l'amicizia! Fit check di questa serata, questo abito, direi che merita. È della nuova holiday collection di Chiara Ferragni, cioè mia. E quanto è figo! Sì, sei da solo qui. Sarebbe molto molto bello vedere che prima cosa che prima non piaceva, non c'è sto dico questa decera, perché non so. Ready. Senti, dammi i quattro biglietti a Chiara. E le dimmi a Chiara e le dire. La gente parla quando non ascolta anche se... Let's go! E le dimmi a Chiara. All along, grab a bag, pack it like, that's what life should be all about.